benvenuti in questa guida top 7 valigie di consiglio pro tra questi 7 abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative ma partiamo subito al settimo posto troviamo newtech set di valigie rigide blu elettriche valigia grande 49 per 29 5 per 75 cm capacit 78 vediamo la nostra valutazione 5 stelle nella qualità generale ottimo momento per acquistare 3 stelle per le caratteristiche assegniamo 4 stelle per il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 77 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione sesta posizione al sesto posto troviamo cabin go trolley in abs rigido con rotelle girevoli da 55 cm ideale per weekend e per viaggi in aereo materiale leggero antigraffio e impermeabile ecco cosa pensiamo qualità generale davvero soddisfacente offerta molto interessante con caratteristiche ottime eccezionale il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 77 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo cabin go asterisco comodo set da 3 il bagaglio a mano 55 per 40 x 20 cm è perfetto per adattarsi ai regolamenti di viaggio delle principali compagni vediamo la nostra valutazione la qualità generale raggiunge 5 stelle offerta molto interessante 3 stelle per le caratteristiche eccezionale il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 85 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare east pack tramvers doppio scomparto ampio dotato di tasca frontale con zip per i documenti di viaggio altezza 67 centimetri larghezza 35,5 vediamo il nostro parere nella qualità generale diamo 3 stelle 3 stelle nell'offerta con particolari caratteristiche con un rapporto qualità prezzo adeguato il nostro punteggio generale è di 90 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo american to u r i s t e r la prima valigia american turister in polipropilene con chiusura con zip ed espandibilite espandibile a 55 per 40 x 23 cm vediamo la nostra opinione una qualità generale eccezionale estremamente convincente l'offerta per le funzionalità raggiunge 3 stelle ampiamente sopra la media il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 93 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo east pack tramvers doppio scomparto dotato di chiusura con zip per tenere le tue cose al sicuro altezza 51 cm larghezza 32,5 cm ecco la nostra valutazione un eccezionale qualità generale proposto a super sconto per funzionalità diamo 5 stelle assegniamo 4 stelle per il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 87 punti trovi informazioni nel link in descrizione prima posizione vince la classifica samsonite base spinner 78 espandibile valigia grande viaggio di due settimane 48 x 31 34 x 78 cm 105 112 ecco il nostro parere nella qualità generale assegniamo 5 stelle un'offerta da cogliere al volo con una straordinaria funzionalità in definitiva accettabile il rapporto qualità prezzo il punteggio è di 91 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al canale